70 milioni più uno è il titolo di una mostra fotografica Palazzo Concini a Terra Nuova Bracciolini durante le feste del perdono dal 20 al 24 è possibile veramente immergersi in un'atmosfera particolare quella dell'India con queste immagini bellissime raccolte da un viaggio durante un viaggio da Michele Pasquini. Il viaggio nasce proprio con il desiderio di ricercare qualcosa che ci accomuni con le popolazioni che stanno lontane da noi. Spesso si fa il viaggio per cercare differenze invece la mia esigenza è proprio quella di trovare quello che ci accomuna. Questo raduno che è il raduno più grosso umano più grosso del mondo ci permette di trovare appunto tantissime affinità con la nostra cultura come ad esempio l'acqua. L'acqua è il segno di vita è il segno di tutto quello che anche tra l'altro per la nostra cultura rappresenta. E appunto il kumbamela che è la festa che si svolge ogni 12 anni alla BAD rappresenta proprio questo il raduno umano più grosso del mondo. Spero con queste foto di riuscire a interessare qualcuno e di infondere un po' di curiosità perché quello mi è sempre fissato con questa mostra. Che ti ha lasciato quando hai partecipato a questo raduno perché il più uno sei proprio tu. Ma cosa mi ha lasciato di preciso ancora non l'ho capito anche perché il viaggio di per sé è bello prepararlo, è bello farlo e soprattutto è bello ripensarlo dopo come tutti i viaggi del resto.